Nema! 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 Capitano si riparte da dove si era finito con una vittoria incredibile da un tie-break! Sotto da tre, ancora una vittoria, cos'è? Solo qui, se c'è una maglia giallo-blu se ci siete voi? Solo a Panapanini, direi non poteva andare meglio. Abbiamo ripetuto stesso spettacolo di ultima gara, c'è poco da dire, veramente, sono emozioni tante che non riesco neanche a spiegarli, ma è un spettacolo, sentite questo, quindi andiamo a festeggiare con loro, vi ringrazio tanto, abbiamo dimostrato di aver forza di vincere sempre. Avevi lo scudetto, c'è la Coppa Italia! Tanta roba, Tanta roba il capitano, la prima vittoria da capitano, com'è? Come, direi non poteva andare meglio. Più bello, adesso mi tocca offrire ai ragazzi da bere. Grazie. Pace!